Allora, allora, mi serve un volontario, vediamo, facciamo silenzio. No, lo deve scegliere in base a chi fa più silenzio. Fai vedere, Elia, vediamo un po'. Ma l'ho fatto dei nasi! C'è nemmeno addirittura immobile. Simone, dai, vieni Simone. C'è, neanche respiro, Simone non stava neanche respirando. Eh, me ne sono accorta, infatti ho avuto un po' di paura. La giornata mondiale delle popolazioni indigene, festeggiata il 9 di agosto. Gli indigeni sono quelli che mangiano le cavallette? Indigeni sono quelli che mangiano le cavallette? Sì! Benvenuti a Tavola con gli insetti. Oggi prepareremo un gustosissimo antipasto, semplice, veloce e molto buono. Cavallette fritte in pastella. Gli ingredienti sono semplicissimi, un po' di semplice. Indigene? Sono matti dalle gare. Sono matti dalle gare. Quando vede la Chiang, non posso non pensare a un orango. Le parole sono del leghista Roberto Calderoli, un ex ministro della Repubblica, che dal palco della festa della Lega a Treviglio, nel Bergamasco, ha insultato il ministro per l'integrazione, Sisi Chiang, rispolverando un vecchio frasario leghista. Come hanno messo le cose, quello è il nuovo gioco dell'estate. A parte che sono? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.